Si va lentamente verso la normalizzazione della situazione alle piscine lenaia di Di Pescara dopo i problemi dei giorni scorsi con un guasto alle caldaie che avevano bloccato le attività. Ieri sono ripartiti gli impianti ed oggi ci sono docce calde con la temperatura in risalita in tutte le vasche. Negli ultimi giorni sono stati fatti alcuni lavori straordinari sulla condotta dell'acqua necessari, come spiega Vincenzo Serraiocco, perché ci sono perdite causate da tubi forati ed obsoleti. Ho lottato con le vecchie mentalità che gestivano le naia di e con i rapporti tra le naia di e la regione Abruzzo. Dobbiamo tenere separati come sempre, tant'è che io il giorno in cui mi sono accandidato mi sono immediatamente dimesso dalla società che gestisce l'impianto. Oggi apprendo con piacere che l'impianto è ripartito, ma ho sempre detto da anni che è un impianto vecchio, un impianto cui bisogna rimetterci mano dai tubi idraulici se non da quelli anche elettrici, in cui mi sono stato sempre disponibile, sempre, sempre, dal governo di centrosinistra, da un anno e mezzo dove aveva anche la disponibilità lo stesso governo, vecchio governo, di poter rimettere e di ristrutturare l'intero impianto a nostre spese, purché ci sarebbe stata una proroga della gestione dell'impianto. Serraiocco si esprime anche sulla questione delle piscine Le Gemelle di Lanciano. Dopo l'incontro con il sindaco Mario Pupillo, la situazione sembra anche qui essere tornata alla normalità e si va verso un rilancio della struttura sportiva. Abbiamo deciso insieme di poter rilanciare questo impianto delle Gemelle di Lanciano e renderlo uno dei migliori dell'area chietina o vastese, così come si vuol dire, impianto sportivo. Da oggi, dalla settimana scorsa, c'è una piena collaborazione, sento quotidianamente l'assessore allo sport per delega del sindaco sulle attività che devono essere fatte all'interno dell'impianto. Pensiamo che abbiamo rilanciato anche le attività all'interno e che da settembre, con la nuova stagione, sia ancora più importante l'attività che si farà sociale e sportiva a Lanciano.